50 anni e guidiamo il paese. Che generazione siamo stati? Abbiamo avuto dei premier come Letta, come Renzi, come lo stesso Conte. Che generazione, che tratti di generazione abbiamo? Io credo che contrariamente ad altre generazioni noi siamo in realtà un gruppo di individui. Quello che credo abbia generato il non far parte di grandissimi movimenti politici o essere arrivati tardi o presto rispetto ad alcuni movimenti abbia causato una generazione silenziosa. Se io penso alla nostra classe dirigente in realtà vedo più individualità che non persone che hanno fatto parte di gruppi. Noi volevamo assomigliare ai nostri fratelli, siamo stati scavalcati dai nostri cugini. Però non mi viene in mente un politico della mia generazione, almeno della mia età, che abbia fatto parte veramente di un'onda. Mentre abbiamo vissuto da spettatori i movimenti precedenti ai quali in qualche modo abbiamo voluto assomigliare. Secondo me non è un caso che la mia generazione sia quella che si è inventata internet, cioè quella che poi alla fine si è voluta in qualche modo associare nella sua individualità agli altri. Però a cui è sempre stato detto state un po' da parte perché tanto voi quelle cose non le avete vissute. E questo film un pochino nasce anche da questo, dal desiderio di dire che invece la nostra visione, magari laica rispetto a ciò che avevamo subito, ha generato un modo di pensare che non assomiglia a nessun altro.